E finalmente, dopo anni di oppressione, siamo liberi. Il mondo si è liberato. Niente più paure, violenze, ingiustizie, barriere, muri. Sono fiero di poter affermare che ci siamo veramente liberati di tutto. L'unica cosa che non sono riuscito a fare è liberarmi della libertà. Perché io sono troppo libero. Libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura e cammina dentro a un bosco con la gioia di seguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero. Non è neanche il volo del moscone. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Chi ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero. Non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Come l'uomo più evoluto che si innalta con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Non addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo E' convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero. Non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero. Non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione. Libertà è partecipazione. Libertà è partecipazione.